Bjorn Belto viene chiamato a presenziare agli scavi presso l'antico monastero di Vern, affidato all'ordine dei cavalieri di Malta. Durante gli scavi viene trovato uno scrigno d'oro dal contenuto misterioso. Appropriatosi dello scrigno, Belto deve fronteggiare una vera e propria caccia all'uomo e darsi alla fuga. Sarà trascinato dal monastero norvegese a Londra, poi a Parigi, nel Sinai, fino alla scoperta sconcertante del contenuto dello scrigno, una verità che riguarda direttamente Gesù Cristo e che potrebbe cambiare il mondo.